Cerchi personale o nuovi candidati che vogliano entrare nel mondo del lavoro, ma hai paura di ricevere un mucchio di profili presi a caso? Le multinazionali a cui ti stai affidando non riescono ad effettuare un'accurata selezione delle risorse. Per loro contano solo i numeri. Il risultato? Tempo perso! Con una valanga di candidati che non rispondono alle tue reali esigenze. Scegli Powerjob, l'agenzia per il lavoro, giovane e dinamica, che ha un approccio diverso rispetto ai colossi del settore. È un metodo efficace e affinato nel tempo. Guardiamo il lato umano, non quello economico. Diamo valore alle risorse, tramite l'ascolto e il supporto nel raggiungimento del loro successo. In questo modo abbiamo la sicurezza di individuare figure che possano sposarsi al meglio con le tue esigenze. Ecco perché il 70% dei candidati che presentiamo viene assunto. E qualora dovessi cambiare idea o una risorsa da te scelta abbandoni entro i primi 30 giorni, ti offriamo un'altra consulenza totalmente gratuita. Diventa nostro partner! In noi troverai un punto di riferimento sempre presente che opera con professionalità, preparazione e pianificazione. Non ci nascondiamo dietro un grande nome. Noi ci mettiamo la faccia. Clicca qui per essere ricontattato.